Aumento attività per 18 milioni di euro, investimenti per 8,31, 500 pensionamenti, occupazione a posti letto dal 70 al 90% con riduzione da 715 a 620. Sono alcuni numeri del nuovo piano strategico di casa sul lievo della sofferenza. L'ospedale di San Giovanni Rotondo nel Fugiano avrà un nuovo modello di gestione. Gli ospedali, anche gli ospedali grandi come il nostro, non possono non continuare ad investire per attrezzature e sulla struttura. Il piano prevede 31,81, quindi quasi 32 milioni di euro di investimenti in questi tre anni. Nessun piano di licenziamenti, ma turnover tra pensionamenti e nuove assunzioni. Non esiste nessun piano di licenziamento dei dipendenti a casa sollievo. Esiste sicuramente un piano, che speriamo venga fatto con molta intelligenza, di gestione del turnover. La Regione Puglia ha dato 13 milioni in più per le attività di liste d'attesa, moltissime di diagnostica. Unità accorpate per aree omogenee, nessuna riduzione di specialità, 10 milioni per la ricerca scientifica, alti dal PNRR. Nessun servizio esternalizzato in più, potenziamento dell'assistenza domiciliare integrata, 6 milioni per gli adeguamenti contrattuali e buco di bilancio, azzerato nel 2024, con utili annuali di oltre 11 milioni a partire dal 2025. Noi prevediamo che nel 2025 che vi sia un risultato positivo, quindi nel 2024 noi andremo a risultato zero e nel 2025 andremo a una differenza positiva di circa 11-12 milioni di Euro tra ricavi e costi.